Io ho un'unica domanda, però è una curiosità, io non ho capito se il dottor Borgonovo pensa che i vaccini ci abbiano aiutato nella battaglia contro il Covid, non abbiano avuto effetto o ci abbiano danneggiato. Io pensavo alla domanda per Tregliasco, ma invece la domanda è per Borgonovo. Ognuno ha il suo aiguro e le autorità scientifiche. No, figuriamoci, figuriamoci. Francesco, vuoi rispondere? Ci hanno aiutato i vaccini? Stando ai dati che abbiamo, evidentemente sì, visto che sono calati i ricoveri e sono calati i morti. Non si capisce come mai, però visto che questo vaccino funziona così bene e non si possono esprimere dubbi, come mai a un anno di distanza siamo a fare gli stessi titoli sul Natale? Sembra che si naspriscano le misure e si taglia fuori una parte della popolazione, una cosa inaudita in Italia fino ad oggi, se il vaccino funziona così bene, siamo tutti felici e contenti, via lo stato di emergenza, lasciamo stare, no? Ma quindi funziona o non funziona? La domanda era a te, funziona o non funziona? Io ho già risposto e ho detto che stando ai dati evidentemente funziona, ma i primi a credere evidentemente che non funzioni sono quelli che gestiscono questa emergenza, perché continuano a mettere una serie di restrizioni come se il vaccino non esistesse, va bene? E che non è finita nel frattempo la pandemia, però non ho il tempo del dibattito, quindi vi devo reinvitare e mi farebbe piacere...